Hai mai preso un aereo? Ti è mai capitato a Bordeaux di fare foto dal finestrino? Hai anche tu la passione per i viaggi e vuoi condividere con noi i tuoi luoghi o i tuoi migliori scatti? Da oggi puoi farlo! Flight Window Condividi le tue opere d'arte Flight Window è un modo nuovo e innovativo per condividere foto ed incontrare persone con la tua stessa passione Vieni a trovarci sulla nostra pagina Facebook, diventa fan e inizia a pubblicare Flight Window, passione sopra le nuvole